Ciao ragazze, era da tanto che volevo farvi vedere la cameretta, però inizierò a farvi vedere questo mio letto dove appunto ho tutte le mie cose in ordine, come sapete che sono ossessionate dall'ordine e potete vedere qui ne ho due piettini, qui ho questo di fimo, ho queste piccole formine, questo qui che mi manca ancora a tagliare delle altre e ho un sacco di tutti i colori di piettini, queste sono alcune forme di stelline, coriccine, quadrettine, cose varie qui, le boccelline e altrimenti di strunale e poi qui avete visto le tip, ne ho il colore rasparente, bianche e naturale, qui il settore la vita, altri tipi non me lo vivo quando non avevo con le pietre e qui vedete, ho il monline per appoggiare pennelli, piettini, 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 piettini e piettini questo qui è per prendere oppure quando faccio la pietra fonce e così ne vale poi nel secondo passettino neanche di che ho con cui faccio la ceretta qui è la carta del tempo e qui ho i monti che è veramente bellissima terzo casetto allora nel terzo casetto c'ho le altre formine tante formine di Fimo poi c'ho tutti i miei pennelli qui poi qui c'ho riviste, cd e di tutto, tutto di più poi quarto casetto e c'ho tutti i miei gel, tutti i colori dei gel vedete? e c'ho il mio acranico poi qui vedete? ha un casino questo casetto allora qui c'ho tutti i miei glitter ne ho porti veramente perché io i glitter no, ho porto le squigelle glitterati poi ho i miei colori di acrilici con il rispettivo numero le cartine che ho messo qui le cartine poi c'è il desinfettante questo solo per levare le unghie non c'è bene, non c'è bene, questo qui nell'ultimo cassetto come vedete c'ho quasi chiuso veramente poco vedete il regalo magari a me questo qui con l'alimenta oppure le spugnetta allora ecco questa è la porcia ringrazio poi c'ho le peluche nel secondo le mie tossine le mie tossine qui c'ho le orecchie qui ho preso il massimo poi ho preso il massimo e qui ho abricchito la piccola tutto la piccola mamma e io ho preso il massimo e io ho preso il massimo e poi così le va e qui volevo far vedere vengo un cento e ho pagato 10 euro l'ho acquistata alla fiera dell'Intercharm a Milano ed ecco anche così volevo far vedere con questo mi faccio la sceletta ho pagato 27 euro vedi questa marca e ti viene in regalo appunto per caricarla quindi questo qui per caricarla ti viene in regalo comunque questo è il 50 euro vabbè i miei ricin capelli e altri liter e vi volevo far vedere quindi le mie fornine tipo questo fiorellino ho portato questo qui che è una rossa questo qui un altro tipo di fiore e questo qui che è la stellina di mare è molto molto bellino mentre io lo faccio con l'acrilico poi dipendere una rossa niente poi la mia tv vecchia il divano ecco il divano poi vabbè questa la fate già che mi sto prendendo qui di questi che ho i miei primi smalti la mia finestra ecco dove c'ho anche la mia impresa la opera e più insomma la scrivania un po' di cose di questa mattina di libri questo è il minuetto con questo è il regalo di compleanno il quadro che mi è arrivato un po' di cose e con un po' di cose piccole non so se si vede la mia brucia con il mio babbo io da piccola c'è l'are un saldino una tazzina di bacio mia sorella in un cucino ma non so il prima fattino di due mesi e un gioletto un regalo quando è andata di a charla di velu e il regalo il il ve un eller che le ti visto è questo è un third il guarde le in calcio il mio armadio da dentro, non è un granché, però come vedete io l'ordine è sempre ecco, non rimane niente, quell'altro non vi faccio vedere spero non mi sia scordata niente, spero che vi sia piaciuta la mia cameretta e niente, vi saluto, ciao ragazzi